signori e signori buongiorno benvenuti al mercatino dell'usato stiamo percorrendo il settore con le vetture destinate al privato ci sono vetture di ogni genere dalle golf alle giulietta alle mito vetture anche di un certo prestigio mercedes serie 7 mv x1 q5 fremont ml proseguiamo con le vetture station wagon sulla sinistra mito e panda sulla destra in fondo i veicoli commerciali senza percorrere tutta l'azienda ci spostiamo cambiamo fila e andiamo a visitare la fila delle berlina pertanto passat bmw 147 156 bmw serie 1 delle bravo e una carrellata di delta anche nuove chilometri zero ci spostiamo ancora questi sono i nostri uffici nel settore berlina ricordandovi che tutte le vetture sono acquistabili non solo dai privati ma anche dai commercianti in questo particolare settore con un po meno margine c'è poi un settore dedicato a voi che andremo a visitare più tardi in fondo vedete i furgoni le utilitarie straniere i piccoli monovolumi sul lato sinistro proseguiamo con le piccole italiane quindi grandi punto punto evo e le piccole straniere sulla sinistra in fondo il costone dei fuoristrada ci spostiamo ancora di una fila c'è ancora un ufficio lì in fondo con i monovolumi un po più grossi quindi freemont multipla cascai turan picasso in fondo vedete sempre i furgoni e i monovolumi un po più piccoli come doblo cubo connect qua queste sono tutte auto vetture quindi con i posti il costone di fuoristrada per quello che c'è rimasto poi il prodotto cambia ogni settimana sia per il lato del privato e per il lato del commerciante qualche vettura vista e piaciuta che vendiamo al privato e qui ci inseriamo nel settore destinato ai commercianti solo ai commercianti quindi bmw x1 classe b classe a prodotto vario tutte vetture con qualche chilometro non ricondizionate mentre invece la parte che avete visto prima sono vetture ricondizionate con pulizia professionale lucidatura lavaggio interno il lavaggio motore quindi già pronte per il pubblico qui vedete i fuoristrada il prodottino piccolo fiat è qualcosa di straniero piccolo ci allunghiamo ancora un attimo c3 appunto grandi punto mini cooper di mini cooper s delle matizze dei 207 altre mini fiesta modello nuovo fiesta modello vecchio percorsa c'è di tutto di più con tutti i prezzi per voi operatori del settore se con autoscout non riuscite a vedere il prezzo per voi mi chiamate ovviamente se titolare di licenza e vi fornerò io il prezzo riservato a voi queste sono le grandi punto punto evo le pandora giù in fondo e stessa cosa per questa fila qua sempre prodotto fiat ci spostiamo ancora mi faccio vedere un po di mal di testa e andiamo nel settore di station wagon per quanto riguarda sta fila e berlina station c'è di tutta audio 3 audio 459 croma e berlina con golf bravo delta 147 giulietta di tutto di più insomma il prodotto cambia ogni settimana andiamo nella fila dei monovolumi piccoli e monovolumi grossi mentre vedete in fondo il costone dei furgoni anzi facciamo che visitarlo subito furgoni piccoli monovolumi quello che è rimasto fiat idea dei connect autovetture con i posti quindi berlingo doblò kangoo e monovolumi un po più grossi quindi cascai multipla c max s max turan galaxy quello che c'è e cambia ogni settimana facendo ancora una panoramica dell'azienda e dicendovi che vi aspettiamo presto le vetture circa sono 500 a disposizione sia dei privati che dei commercianti vi ricordo il mio numero telefonico che è 333 360 7310 per i rivenditori titolari di licenza contattatemi e vedrete che ne sarete soddisfatti però vi ringrazio un saluto a tutti arrivederci